E' estremamente motivante, formativo, ti dà tantissimi spunti. Sono galvanizzato, molto interessante, speaker interessanti, coinvolgenti, argomenti stimolanti e quindi ci è piaciuto. E' una riunione di persone che fanno il learning e finalmente c'è. Decisamente interessante. E' un appuntamento molto bello, ci ero anche l'anno scorso, è stato interessante perché si scoprono un sacco di idee nuove. E' stata un'occasione interessante che ha dato molti spunti in riflessione che posso portare anche in azienda da me per migliorare quelli che sono i nostri processi e dare più opportunità ai nostri dipendenti. Mi è piaciuta molto. Adesso sono stato molto contento di essere venuto. E' molto interessante soprattutto per le aziende, per fare una formazione con una funzionalità professionale molto elevata. Quindi dovrebbero puntare molto sul digital learning. Interessante, ci sono delle cose, sono state delle punte, soprattutto a me è piaciuto molto quello di Docebo. E' molto interessante. Penso che lì ci sia molto da fare e da studiare. Tocca ambiti più ampi. Questo l'ho trovato molto interessante. Un'ottima iniziativa da parte di Mosaic Learning. Sono molto felice di quello che finora ho visto. Mi ha aiutato a sentirmi un po' meno sola. Spesso lavoriamo da soli, quotidianamente. Quindi farsi sentirsi in un gruppo, sì. Una manifestazione ben realizzata, molto positiva. E diciamo che ci sono tanti spunti, soprattutto, come dire, al di là dell'attività pratica, che non fa mai male. Come dire, un po' di pappa per il cervello. Quindi molto positivo. Molto, molto particolare, molto interessante. Tante belle speech. Poi loro, i fondatori, sono fantastici. E' bellissimo poter sentire dal vivo personalità così influenti e così ricche, appunto, di idee che servono assolutamente. E' un'opportunità bellissima. E' un'opportunità che è necessaria, soprattutto in una città come questa. Grazie a tutti.